Ci troviamo con Giovanna Chiappierini che è la responsabile dei commercianti di via Filippo Patella nella città di Agropoli. Siamo con lei per attenzionare l'amministrazione comunale di una problematica che ogni stagione estiva si ripropone. Assenza di segnaletica che possa indicare i turisti che arrivano nella città di Agropoli, che sono grazie a Dio sempre di più non solo italiani ma anche internazionali, e che possa indicare effettivamente le scale antiche dove portano e qual è la storia della nostra città. Ecco, lei nella giornata di ieri ha realizzato un post su Facebook menzionando appunto il primo cittadino. Qual è la richiesta e che cosa succede poi quando arriva effettivamente la stagione turistica? Allora, io c'è da dire che la mia attività è presente in via Filippo Patella da ormai vent'anni, per cui questa zona la conosco benissimo. Quello che succede è che quando arrivano i turisti nel mio negozio, la prima cosa che mi chiedono è cosa c'è là sopra, proprio letteralmente, queste sono le parole. E io puntualmente, ogni volta, cerco di dare delle indicazioni, dei cenni storici perché al di là di queste scale non sanno cosa si possa trovare. Questa mia richiesta è stata fatta, ma già da un due o tre anni fa, di porre delle indicazioni, o meglio un infopoint all'inizio di via Filippo Patella. Se ne è parlato tante volte, anche negli incontri che abbiamo avuto in comune, i vari rappresentanti di tutte le strade di Agropoli, il sindaco ne è al corrente, però ad oggi non è mai stato fatto nulla. Dato che già da qualche settimana le riaperture sono state già attivate, questo problema si è ricreato. Io l'ho fatto nuovamente presente perché è una cosa che proprio mi dà tremendamente fastidio. Ecco, oltre all'assenza di segnaletiche, che ovviamente non ci sono né all'inizio di via Filippo Patella, né, come potete vedere, all'ingresso degli scaloni, c'è anche una richiesta di attenzionare maggiormente il centro cittadino e quindi a partire proprio da Piazza Vittorio Veneto a terminare poi al centro storico, vero e proprio, perché in tanti cittadini, ma soprattutto i commercianti che vivono quotidianamente Agropoli, cercano, insomma, all'amministrazione di essere più presenti anche per quanto riguarda il decoro urbano. Assolutamente. Allora, da quando è stata fatta l'isola pedonale, sia in Corso Vergabaldi che qui, che sono vent'anni, praticamente nei primi anni c'è stata manutenzione, quindi cura delle panchine, del verde, tutto quanto, pulizia delle strade, non dico tutti i giorni, ma quasi. E diciamo che da parecchi anni a questa parte questo non succede più. Infatti si vede il degrado, sia, ripeto, per quanto riguarda le panchine, che all'inizio erano otto. Adesso ne sono rimaste due in condizioni veramente pietose, mai risistemate, infatti sono tutte scrostate. I cestini, per quanto riguarda l'immondizia, che sono anche loro pochissimi. E poi non parliamo del verde, delle poche fioriere che qui ci sono, che comunque sono maltrattate, perché anche se diciamo che di tanto in tanto c'è qualche giardiniere che viene a mettere le piante, non vengono innaffiate, non vengono curate. Infatti l'anno scorso io ho chiesto anche agli altri commercianti di adottare una pianta affinché si anacquassero e si curassero per quello che possiamo fare. Che cos'è che chiede all'amministrazione comunale? Sì, allora io ho già richiesto, ripeto, in svariati incontri la messa in posa di altre panchine che comunque, questo essendo una strada di transito importantissima per il centro storico, parecchie persone diciamo si seguono prima di salire su per le scale. Qualche altro cestino, anche magari differenziato, che non sarebbe male e la cura delle piante e dei fiori. E poi non dimentichiamo la segnaletica ovviamente che abbiamo... La segnaletica in primis perché è la prima cosa, è importantissima perché, ripeto, chiunque sale per questa strada non sa cosa si trova al di là degli scaloni.